SIGNORI! Benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Legends, qui è Dani dalla vostra Enfire Family. Mi sono riguardato il mio video in cui cercavo i Blue Boys e mi sono tornati alla mente un sacco di ricordi. Oggi mi sentivo ispirato e dato che è uscito il banner di un personaggio che come me al tempo gli aveva fatto sicuramente svuotare la Crono Crystal, ovvero il Gogeta banner di Gogeta Ultra, che è tornato sul gioco, nel suo banner so che c'era anche questo caro signorotto qua e quindi mi sono chiesto ma perché non provare a dare una mano a tutti gli shaftati che magari hanno trovato lui ma non Gogeta? Allora portiamo e lo riscopriamo di questo Broly, un personaggio abbastanza particolare, sicuramente non Tier God, direi che, insomma, gli hanno dato un bel platino, io non l'ho mai potenziato al massimo il platino, l'ho sempre lasciato con l'ultimo slot dorato, il terzo non mi è mai uscito, era uno di quelli ancora bagatissimi, dovevate spendere, boh, 600 gomme per trovare quello slot, quindi va bene, lo lasciamo così, o tu si attiva quando fate una kill, e lo giochiamo in un sagazio di Movies con il nostro Goku Fist, che andrà a fare da tank a questa line-up, perché può fare un tank, ragazzi? Intanto iniziamo a cercare la partita che vi spiego il kit. Perché quando ci sono due sagazio, lui ottiene l'endurance, quindi riuscirà più o meno a coprire tutto quanto. Gogeta Ultra è ovviamente fondamentale in questo meta, se non lo avete non rankate in PvP, Legends sta, come avete già notato voi nell'ultimo periodo, diventando molto, molto più selettivo per quanto riguarda la possibilità di rankare in PvP in maniera tranquilla senza gli ultimi personaggi. È vero che comunque anche con un team leggermente vecchiotto, lo abbiamo dimostrato più volte su questo canale, potete giocarvela e divertirvi, però insomma di sicuro non ci fate le top alte. Oppure dovete massacrare la vostra mente di porconi, perché senza gli ultimi personaggi del featured si fa fatica. Ovviamente si fa molta, molta fatica e sicuramente ci vuole molto più tempo, no? Quindi è un po' un bilancino diventato Legends tra il vostro tempo versus avete i personaggi più recenti. Quindi potete tranquillamente barattare il vostro tempo per fare la top, senza problemi. Oppure prendervi i personaggi nuovi e, diciamo, godervela alla scalata. Allora, a questo punto cosa facciamo? Siamo con, ovviamente contro un bel Rosé. Insomma, Rosé, anche lui in questo periodo si è dimostrato essere all'altezza di Gogeta. Sicuramente il personaggio che gli sta sotto. Io continuo a dire che per me Gogeta Ultra è sopra. E cosa facciamo? Il nostro Broly, ragazzi, ve lo faccio vedere subito. Come funziona? Il nostro Broly ha, intanto, cover change sulle strike, che vi faccio vedere apposta. Purtroppo mi ha scalato le blue card, quindi peccato. Abbiamo Blast Armor sulle strike e ogni volta che l'avversario switch, ragazzi, il nostro Broly inizia a pomparsi. Voi direte, ma Dani, ma serve proprio che il Broly si pompi? Assolutamente. Si, si va addirittura a ricaricare il Vanish. Ok. Questo spacca le sfere. Andiamo con Goku. Andiamo con il Beitino. Abbiamo Ultra Gogeta, prontissimo qua, che va a caricare subito le nostre strike. Black e il nostro Key. Io ho bisogno di, per favore, gioco, dammi un'altra blu. Bravissimo. Va bene, uno blu così. Ok, andiamo così. Perfetto. Questo è un Drop Tattico, che toglie un bel po' di vita al nostro Black. Questa è una cosa bruttissima che ho appena fatto. Sono un Pirla, anche perché ho rischiato di farmi scoppiare in mille pezzi. Bello sto Drop, caro. Molto bravo. Mi sa che qui addirittura... Dani. Perché non hai tirato la main, che hai in anti-endurance? Mettiamo Broly, spero che la regga. Ti prego, reggila, bravissimo. Ottimo. La retta. Vedete, ragazzi, come vi ho dimostrato tantissime volte. In questo gioco ci si può divertire, vedete, con i personaggi vecchi. Cioè, siamo riusciti tranquillamente a gestircelo il nostro Rosetti e Tier Feature. Anche se probabilmente Broly si trova in una condizione patetica a livello di Tier. Vabbè, fa niente. Il primo match è andato come è andato. Sapete che non taglio ultimamente. È giusto vedere anche le cose negative dei personaggi. Però, insomma, a volte mi mette un po' tristezza questa cosa. Questa mattina dovrò avermi svegliato bene, perché qui in Germania c'è vacanza direttamente un giorno prima. Adesso non so se vuoi avervi a scuola, se lavorate o cosa. Però qui in Italia c'è la possibilità di... Con la Pasqua di avere un giorno extra, che è il venerdì. Quindi chi ne è regalato un venerdì a tutti quanti. Tanto questa partita l'abbiamo persa malamente, ma la lasciamo lo stesso. Insomma, l'importante è che... Che figo! Non mi è mai capito di poter lanciare con questo Goku. Cioè, di poter effettivamente andare in last standing. Ovviamente è tutto loccato. Io non so cosa fare. L'unica cosa che posso fare è stare così e... Boh, provare a fare qualche saltino del cavolo. Ci proviamo, ma... C'è poco che posso fare qua. Vabbè, l'ho preso, ma... Di sicuro la blu, ragazzi, non ha l'antien. Siamo... Siamo scoppiati in mille pet. Come perdere il ripi tutorial dai danni. Ma tu ce la fai e vinci la partita? Ok, ce l'hai catta. Non ci voleva tanto. Stavo giocando Broly e Goku Fist. Cioè, capisci? E... Continuiamo, facciamoci un altro. Tanto vi racconto. Dicevo, venerdì, qui in Germania, Nella settimana di Pasqua Abbiamo un giorno extra, ok? Per fare delle vacanze. E quindi mi sono detto, vabbè A questo punto Mi vado a riguardare i vecchi video. Mi sono guardato i vecchi video del canale E cavolo, ragazzi, cioè La differenza era veramente abissale. Era veramente abissale. Cioè, il Tier Fe... Mi chiedo, come mai il Tier Featured Ha rovinato così tanto Questo gioco? Cioè, come mai quando giocate Non trovate più persone come me Che alla fine scaricarono il gioco Per divertirsi? Perché questa cosa nel tempo si è persa? È veramente un dispiacere per me. Cioè, se superate un certo gradino E... Si fa troppo fatica. Adesso, facciamoci questa partita per bene. Però, avete visto? Povero Broly. Lo proviamo a... A tirar fuori, ma... Se leggermente usate qualcosa di... Leggermente peggio del normale Eh, subite. Subite parecchio. Allora. Andiamo a portare a cercare questa partita. Dai mo'. Ok. Troppo alla verde. Io, ragazzi, ci provo, eh. Però... Ovviamente qui... Serve... Eccolo. Va bene. Mi serve il Tancone qua, eh. Mi serve il Tancone. Eccolo. Guardate com'è Tanca. La vera potenza di Goku, ragazzi. Mamma mia, guardatelo! Buono. Sì, dovrebbe avere altre 7-8 carte, circa. Ok. Poi, se mi capitano queste partite... A volte sembra che la Rengifia... Ehm... Completamente contorno di me. Beh... Vabbè... Accettiamo. Io... Accetto le sconfitte, ragazzi. Non sono una persona che... Se la prende. Anzi, semplicemente constata la situazione. L'ha constato io. Va bene, Mirai. Sei il grande. Cosa facciamo qua? Mi tiri le blastine? Ok. Stiamo... Siamo fermi a... A giocare a distanza. Allora, possiamo giocare un po' il nostro Broly? Ma... Allora, teoricamente la risposta è sì. Però... Io sarei un Pirla a mettere Broly in questo momento. Perché potrei pescare l'ultima sfera. Ah beh, dai. Facciamolo. È per lo showcase. Dai, feintami, Broly. Feint a fre... No, niente feint. Beh, eh... Io vi confermo che... No, 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 no. Sapete che cos'è la cosa che mi rende molto triste? Che l'avversario è anche scarso. E lo vedo da come si muove. Cioè, sta giocando veramente male. Veramente male. E questa cosa mi ha... Forfettiamo. Forfettiamo. Facciamoci qualche altra partita, ragazzi. Io ci ho provato a giocarvelo questo Broly. Però pare proprio che non... L'ho anche Zenkai baffato parecchio. Sto perdendo solo RP. Peccato. Mi dispiace, ma... Cioè, mi piacerebbe che comunque questi video, anche molto... Insomma, lato negativo... Suscitino qualche... Discussione insieme. Perché io scommetto che non sono l'unico ad avere delle partite dove, quando decido di giocare un team differente dal meta... E come vedete, il meta è fatto solo di Rosé e Ultra Gogeta Blu. Cioè, non trovate altro, ragazzi. E questa è la cosa triste. Solo Gogeta e Rosé. Costantemente. In tutte le partite. Invece di avere una varietà che in passato c'era. C'era sicuramente di più. Io ho visto piano piano come le Ultra, vedete qua, hanno sostituito in maniera incredibile il 90% delle Sparking e delle LF, forse di più. Possiamo anche giocare bene le partite, possiamo... Però non vi faccio vedere Broly. E quindi sarebbe costantemente giocare con... Cioè, io adesso lo metto. Guardate il danno che stiamo facendo. È... È patetico. Broly. Ok. Tiriamo un pugno. Beh, dai. Questo devo ammettere che di... Oh. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa... Da questa... Da questa cosa. Va bene. Altro? Va bene, vai, vai. Ancora, tanto non hai nient'altro. Finita. Buona lì. Vai, cariciamo tutto. Allora, obiettivo dello showcase è riuscire a vincere una partita. Questa è l'unica cosa che ti chiedo, Legends. Voglio solo vincere un match. Ce la facciamo a vincere un match? Oddio. Slice Resistance Down. Questa non mi piace. Però dai, Broly ce la fa. Dai, Broly che reggi. Mettiamo il nostro... Quindi... Ce la... Questa showcase finirà quando riusciamo a vincere una partita. Oh, porca vacca che danno. Ma c'è bisogno di stare a long range. E flottare orizzontalmente. Stai giocando contro... Stai giocando... Non mi esprimerò in questo. Allora. Va bene. Va bene, Beitino. Io cosa faccio? Sto fermo e ti tiro l'RR? No, non c'ho voglia di farlo. Ora facciamo così invece. Almeno lo abbiamo tirato in combo. Allora. Gogeta, portaci a casa una kill. Broly... Showcase di Broly. Si può chiamare Showcase di Broly questo? No, ma scusa, ma stiamo scherzando. Pure questo. Eh, io ragazzi non dirò niente. Non avrete i miei commenti su... Giudicate voi. Voglio un vostro giudizio su quello che appena è successo. Io droppo qua. Madonna ragazzi, questo qui non lo sa... Va bene. Non diciamo niente. Silenzio. Abbiamo la calma zen dalla nostra. Abbiamo la calma zen ragazzi. Credo uno degli Showcase peggiori e più fallimentari che io abbia mai portato su questo canale. Doppio zenkai buff. Broly, non mi hai molto convinto. Io ti do l'ultima possibilità. Abbiamo perso tutto. Lo Showcase della vergogna. Lo Showcase delle sconfitte. Trovatemi un creator che vi porta tre partite, tre lost di fila. E... Ho tutto su una call wifi, quindi probabilmente sto rincontrando una maria di italiani. Che diranno... Eh, madonna, mi è andato scarso. No ragazzi, sto cercando semplicemente di giocare un personaggio diverso da normale. E questo è quello che succede nel gioco. Questo è quello che succede nel gioco. Io sono sicuro che molti di voi fanno le stesse cose che io faccio vedere in questo video. Ma il creator solitamente, il tipo creator, deve essere dipinto come la persona perfetta. Quella che non perde mai, quella che non sbaglia mai. No, non è vero ragazzi. Noi siamo giocatori proprio come voi. Le lustre che le abbiamo. Ovvio, poi, quando bisogna arrancare e si raggiungono, si vuole raggiungere la condizione elevata, si va a giocare il team meta. Però... Questo dimostra cosa succede in top 10k in questa season. Cioè, ci sono solo Rosé. Solo Rosé e Gogeta. È incredibile questa cosa. Ma come fa un free to play a gesti... Che ha sciatato su queste due ultra a giocare BUP? Se non avete 17 purple, se non avete MVP 17... Se non avete un personaggio per gestirvi questa gente qua. Ma io non lo credo anche che vi incazzate e vi passa la voglia di giocare. Io lo capisco, lo capisco benissimo. Ho letto il post sotto la community di Luca che chiedeva... Che cosa succede alle visual di Legends? Cosa succede alla gente? Io vi ho letto. Vi ho letto in moltissimi di voi. Perché si incazzano? Perché quando cercano di giocare delle partite per vincere... Iniziamo con la descrizione di partite per vincere. Mi succede quello che succede a me in questo video. Immaginatevi quando qualcuno invece tenta di divertirsi. Cioè, la situazione è ancora peggiore. Guardate che succede quando provate a giocare il team con magari i vostri personaggi preferiti. Non avete... Non c'è possibilità, ragazzi. Non c'è possibilità. Non c'è possibilità. E sono solo partite... Cioè, sono solo partite regalate queste qua. In cui... Cioè, si guarda. Vabbè, questa stagione, ragazzi, se volessimo fare i cattivi e dirla tutta, è la stagione più tryhard della storia. Perché comunque è durata... Tutte le stagioni, ragazzi, con i punti doppi. Dato che il team di sviluppo sa che la gente si arrabbia quando perde. Sono fatte poste per farvi incazzare. Ok? Ed è una cosa normale, perché... Il sistema di matchmaking di PvP non è abituato a gestire le partite diverse... Io comunque continuo, non mi interessa. Facciamo un po' che... Già, lo trasformiamo in una specie di showcase talk in cui parliamo e basta. Siete... Cioè, il sistema di PvP, dicevo, non è abituato a gestire gli RP volanti doppi. Quindi verrete matchati con persone un po' alla cazzo di cane. Ok? E... Ho perso... Wow, 2.000 posizioni. Interessante. Facciamoci l'ultima. E... Magari riusciamo a vincerne una. Non credo, ma ci proviamo lo stesso. E quindi il matchmaking non riesce a gestire le vostre... Le vostre posizioni. Ok? E... Vi matcha con avversari... Che hanno... Questo è tutto... Cioè, o sono esageratamente forti, o sono esageratamente scarsi, come questo. Cioè, come no... O di tutto hanno... Questo tizio qui ha 23.550 RP. Voi vi giocate 3 partite. 3-4 partite. Le perdete tutte. Poi il sistema... In qualche modo, se vi dovete fare ad esempio la prima first win, vi mette comunque contro degli avversari che vi regalano le vittorie, così. Così non c'è neanche gusto giocare. E quindi... Voi siete costantemente in questo limbo, in cui perdete 4 e vincete 1. A meno che non usate team meta. Io ad esempio il team che uso per scalare, che è a Gojeda Ultra, Goku Ultra Instinto, quello verde, e... 8. Quello ragazzi, cioè... Farmate RP come se non ci fossero domani. È veramente facile. Però... Da un certo punto di vista, vi fa passare un po' la voglia di giocare questo sistema. Almeno a me fa passare la voglia di giocare, perché io voglio giocare ad altri team. Voglio divertirmi con altri personaggi. E questa cosa non mi consente di farlo. Però vabbè, dimostreremo che... Il matchmaking di Legends è strambo. Mettiamo il nostro Broly. Vedete il danno che subiamo, anche se il personaggio Trunks viola è nuovo. Qui è ragionevole. Sembra fatto tutto apposta. Che tristezza. Vabbè. Sono contento comunque di aver... Insomma, ho portato qualche altro showcase divertente nell'ultimo periodo, sono riuscito. Però a fine stagione, ragazzi, a fine stagione, non c'è santo che tenga. Se io fossi un creator cattivo, proprio stronzo, mi basterebbe tenervi nello showcase di solo questo match qua. E gli altri li taglio tutti. Dico, in il primo match vi porto questo. Eh, facile. Wow. Ragazzi, guardate il danno di Gojeta. È incredibile. Però non posso farlo. Vi devo lasciare quelle partite, perché sono quelle... Ciò che... Che è la realtà. Carta blu. Va bene, niente. Va bene, abbiamo ancora l'endurance. Va bene. Va bene. Vai, Cell, diventa fortissimo. Perfetto. Perfetto. Ok. Si trasforma. Scarica la mano questo Cell. Non sono riuscito a farvi lo showcase, ragazzi, perché la vacanzina è finita. I viaggi in treno non erano sufficienti. Sapete che mi faccio sempre in quattro per portarvi questi showcase, eh, ragazzi. Sappiatelo. Ok. Mi rusha con il nuovo Cell. Dai, coloro di svantaggio lo gestiamo, sul giro. Ok. Abbiamo ancora l'endurance, quindi siamo tranquilli. Va bene. Perfect attack. Formiglioni, buono. Ok. Arriva il Rescue. Va bene. Addirittura con bait. O K. Bravo. Va bene. Eh, qui, ovviamente, torna Cell. Che figo il cover change di questo Cell. L'ho fatto proprio bene, mi piace. Ok. Ma era, ragazzi, che camperate al long range, ma... Ma non è possibile che devono essere tutte così le partite, però. Abbietate la decennia. Va bene. Carta verde. Ce lo facciamo usare i broli in una partita? Dai. Col feintone. No. Va bene. O K. R. R. Vediamo se riusciamo a tirare giù il Trunks. Ce lo facciamo fare una kill con broli in questa showcase? Oh. Showcase? Lo trasformerò in qualcosa di tipo talk nel titolo. Ah. Ah, l'abbiamo tirata giù. 8 milioni. Ok. Ci siamo? Ok. O K. No, 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 ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Fermo che non abbia Strike. Ah, no, aveva anche la Strike. Porca vacca. Ah, ci mancava pure questa. Va bene, dai. Questa me la sono... Per... Bye. Più... Ti Venite. Va bene Match concluso Ho bisogno di commentare quello che è successo? No Vi lascio la palla Discutiamone insieme Cosa ne pensate Sinceramente Di queste partite Adesso lasciate perdere per favore Che Eravamo con un mindset molto tranquillo Volevamo semplicemente divertirci Lasciate perdere questo fatto Cosa ne pensate Della situazione del pvp di legends L'ultimo periodo Vi piace Oppure no Ci vediamo